Benvenuti dal vostro Dictator Lorenz in questo quarto episodio insieme sulla Medieval Kingdoms Total War 1220 con il nostro sacro Romano Impero di lui Federico II di Svevia alle prese con la sua grande discesa in Italia Buon pomeriggio ragazzuoli, oggi si fa la storia, oggi si attacca il Ducato di Milano Ducato di Milano che è sceso fino a Bologna addirittura e qui dobbiamo andare a soggiogare la nostra amata Italia per espandere il potere incredibile per l'appunto del nostro sovrano illuminato, del nostro Stupor Mundi vedo anche qui al confine con l'Italia un'armata del Brabante, no delle Fiandre un'armata delle Fiandre e allora, 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 Guelfi e Ghibellini oggi ragazzi o col Papa o con l'Impero non ci sono vie di mezzo allora, controlliamo anche un attimino qua il discorso allora, Urius cosa si è preso? Maybe God doesn't exist, but if he doesn't want his help Religious Influence più 2 ok ragazzi, intanto è anche il 1226 e noi dobbiamo anche darci una bella mossa perché nel 28 dobbiamo cercare di fare la nostra crociata incredibile allora, Milano iperprotetta ragazzi, è Milano iperprotetta qui forse dobbiamo portare giù anche la seconda armata dobbiamo portare giù anche la seconda armata ma possiamo attendere tranquillamente possiamo tranquillamente attendere buon pomeriggio Francesco allora, ramo tecnologico ramo tecnologico che cosa possiamo andare a ricercare? allora, abbiamo appena preso l'espansione per le nostre coltivazioni ciao anche a Denise quando la conversione del mondo al cristiano ma in realtà qui siamo già in un mondo cristiano noi vogliamo riformare un attimino questo cristianesimo ciao anche ad Andreas mi prostro dinanzi a lei adesso questa è un'esagerazione questa è un'esagerazione comunque ho la comunicazione ufficiale che aspettavate riguardo ad Axis vs Allies a Bemus Data a Bemus Data inizieremo domenica 14 nel pomeriggio le date dovrebbero essere allora, la prima in assoluto per l'appunto domenica 14 quindi siamo proprio vicini vicini e poi dopo sono state fissate tre date visto che comunque il test che abbiamo fatto nel bootcamp terminato ieri sera con la vittoria dell'asse cioè degli alleati ci ha fatto vedere come in tre puntate si riesca a terminare la saga quindi tutto sommato molto bene buon pomeriggio anche ad Iron Age allora per quanto riguarda le nostre ambushes ecco, questo potrebbe interessarmi questa define military organization così gli ambushes early vengono rimpiazzati con la milizia ambushes ok ora vediamo se possiamo developpare un attimino le nostre coltivazioni Erfurt no Magdeburgo no Praga qui stiamo già costruendo mentre invece in Baviera anche allora direi che 1600 1600 1600 boh andiamo avanti passiamo il turno Theobald comunque dic scusa se ieri sera mi sono arrabbiato quando gli alleati non ti ma tranquillo ma vabbè ma mi scuso anche io cioè io ieri sera mi sono irritato tantissimo però vabbè ma ci sta cioè ogni aspetto è legato ad una determinata partita quindi oggi mi sono già completamente dimenticato dell'arrabbiatura di ieri allora questo è un governatore allora perfetto gli aumentiamo il landowner così andiamo in positivo di cibo autunno anche perché arriva l'inverno l'inverno di solito ci uccide qui che cos'è melee attack command force sì vai di melee attack anche te ok allora adesso possiamo finalmente passarlo questo benedetto turno comunque ragazzi io volevo chiedervi in una in questa guerra guelfi e ghibellini voi come siete schierati dai scrivetemi in qui in chat chi sta con i guelfi chi sta con i ghibellini chi pro papis chi pro imperatore ahiaia ah poi alle sette e mezzo oggi giochiamo anche a tropico 6 tropico 6 dove mi hanno detto che devo fare più strutture per i trasporti una su ogni isola almeno dic ti prego vassalle il santo padre oppure conquistalo direttamente eh per arrivare al santo padre noi però dobbiamo passare da milano eh e milano ha le mura ha una guarnigione piena ha un'armata full stack andreas e ghibellino molto bene ciao giorgio sì però ciao anche a giovanni stark 89 da twitch visite duty calls chi è morto no 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 ah no clodo aldo mi stavo già spaventando ho detto oddio è morto lo stupor mundi oddio è morto lo stupor mundi invece no allora fammi vedere qua tu tu non pigli attrito no non pigliano attrito perché siamo nelle terre dei nostri alleati che potrei prendermi un altro swiss pikeman però costa un sacco di soldi allora qua intanto il reclutamento sta procedendo molto bene molto 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 bene questa armata ha delle catapulte sì 2 quindi 2 2 in realtà potremmo in realtà potremmo attaccare milano potremmo già farlo adesso anche se in inverno non è che sia l'ideale aspettiamo aspettiamo la primavera per attaccare raga ribellione in baviera chi è che si ribella al volere tu ti ribelli tu devi continuare a reclutare il nostro erede è qua tranquillo a proteggere l'est perché ti sei ribellato in baviera tu per quale motivo allora innanzitutto crane storage facciamo un bel upgrade tu direi che potresti tranquillamente spostarti qui grazie mi pigli l'attrito però Vienna quanto ha di guarnigione beh abbastanza per difendersi allora a proposito di tropico Dick ti consiglio di dare più soldi alle tue piantagioni ciao a Vincenzo allora sapete cosa facciamo dopo in tropico al massimo iniziamo ne iniziamo una nuova così da da zero riusciamo a curare un po' tutto perché quell'altra è stata iniziata un po' un po' così alla rinfusa e non conoscevo tutte le meccaniche però vabbè deciderete deciderete voi se continuare quella o rifarla a me personalmente non cambia nulla ecco e di far costruire più camion che trasport e vedi io queste cose non le so Dick lo sai che a Cremona dato che i ghibellini i guelfi si odiavano talmente tanti i guelfi hanno creato un secondo comune questa cosa non la sapevo allora qui ci stanno anche raidando trade gain e respectful ario baudo ma lo stupor mundi ma vuole ciulare o no ma dai ma non ciula mio signore non ciula lo stupor tu perché non hai eh fatti scusami guarda qua Vestralp intanto qui c'è un giovane ariano pronto pronto a diventare uomo ciao X Vortex tu priest sta in zona milano perché devo tenere devo tenere d'occhio quell'armata devo tenere d'occhio assolutamente quell'armata allora adesso dobbiamo eliminare quella ribellione eliminare quella ribellione intanto nel mentre stiamo continuando a reclutare come se non ci fosse un domani nella nostra capitale nella nostra francoforte è il ciulatores buon pomeriggio aleius il ciulatores no non ciula in realtà è casto è pio cosa che in realtà non è assolutamente vera perché casto e pio proprio non lo era il nostro stupormundi tant'è che veniva anche accusato di di atti osceni dal dalla chiesa infatti era famoso per avere un suo harem lui aveva questo harem nel sud Italia con tantissime donne di diverse etnie quindi insomma sapeva intrattenersi e tra l'altro aveva cioè lui collezionava anche animali esotici che gli venivano mandati in continuazione come doni appunto dai dai potentati musulmani cioè la storia dell'elefante poi tra l'altro lui se lo portava in giro quando si spostava se lo portava in giro questo circo sostanzialmente verso guarda il papa che va da sua santità c'è il papa milano che se ne va dalla sua santità cazzo cazzo milano potrebbe essere un ottimo no però aspetti voglio fare le cose in pompa magna allora tu vai qua e vai a eliminare la ribellione innanzitutto ok ribellione sedata uccidili ribelli e torna in veneto ok è stato scomunicato più volte più volte è stato scomunicato francesco buon pomeriggio anche a te ciao dictator ho provato a installare la mod 1220 ma non mi fa aprire attila perché dice che le mod non funzionano insieme sai come potrai risolvere il problema si potresti ritornare al vecchio lancer credo che sia quello il problema devi scaricarti il vecchio lancer allora generale mio generale mio amato generale mio adorato ok poi l'armata ecco di questa armata qui gli scomunicati gli scomunicati di Vienna ok questo è morto il ribellino buon pomeriggio edo allora allora dai cribio ma perché non fa figli bea tulf cosa vuole il dono della velocità un nobile locale in cerca di favori beh allora Federico era un un uomo che si interessava di tutte le scienze quindi direi che study horses potrebbe essere in linea con la nostra partita roleplay ok tu qui a che punto siamo 810 ci mancano ancora due turni due turni per preparare questo attacco ma scusami una cosa la Lombardia è in guerra col papato e con il regno di Sicilia ah hai capito hai capito intanto guardate qua cacchio l'Ungheria l'Ungheria è enorme l'Ungheria sta cristianizzando la Lituania questo in realtà è un'ottima cosa per noi nel senso che allontanano i nemici dai nostri confini Dick prova a cambiare moglie tra l'altro a proposito di Ungheresi Federico sposò sposò la la nobile Ungherese che tra l'altro come per suo padre quando sposò l'Altavilla aveva dieci anni in più di lui poi lei morì e lui si risposò guarda caso con chi con la De Brienne che era l'erede al trono del regno di Gerusalemme quindi qua è beautiful lui ne ha 33 lei ne ha 23 fammi vedere ma riusciamo a sposarci l'Ungheria l'Ungheria perché io ho paura a eliminare io aspetterei ancora un attimo voglio farlo figliare prima perché qui ha 33 anni allora l'armata ammunition attrition immune to snow attrition facciamo così che mi aumenta il munizionamento tu non riesci proprio a spostarti neanche se ti do qui mi sta prendendo un sacco di attrito tu vai giù qua a vedere ecco stai qui e tu invece vai verso Bologna ok ariobaudo il governatore corruption meno 5 authority construction meno 20 no prenditi due di questo così eliminiamo subito la corruzione visto che era anche un fomentato legislatore il nostro stoppormondi ciao Giovanni scusa l'ignoranza dick ma come faccio a scaricare il vecchio launcher hai ragione non te l'ho detto sto pensando sto pensando allora dammi un istante solo perché devo andare a vedere aspetta che posso allora facciamo così arrivo subito ragazzi c'è tanto resto qui con voi devo vedere nei messaggi privati con art studio non ce l'ho qua non ce l'ho qua senti una cosa allora adesso non riesco non riesco a trovarlo se mi dai il tempo di vabbè fare questa live dopo alla fine della live ricordamelo e mi dici come ti chiami su steam cerco il link e te lo invio cerco il link e te lo invio gli scomunicati di vienna soffrono attriscio mio signore ciao a steve scola certo che è una mod wrinkling reputations wrinkling reputations kness no cammina pure normalmente tanto adesso vai qua e andiamo a mangiare polenta e osei guarda qua in venezia guarda qua venezia come se magna come se magna e se beve uh uh milano che attacca il nostro dominio di sicilia milano ha preso dei grandi cazzi però mio signore sta a napoli beh raga qui noi possiamo io direi che possiamo scendere in italia io direi che possiamo scendere però mi gira le palle prendere milano perché sti rimbambiti la lasciano sguarnita ma tu vai giù qua voglio assicurarmi che non abbiano nient'altro Bologna e tu invece vai in questa zona qua che voglio vedermi anche i genovesi ok allora uh Torino uh Torino Genova come è messa Genova non ha alleati mmm cicciula Genova non ha alleati io muovo di qua io muovo di qua ne approfitto per tirare una bella scaramuccia a Genova anche perché adesso in questo turno vengono viene pronta la Wehrmacht viene pronta la Wehrmacht e può scendere due turni arriverà presumibilmente a Milano uh mi piace questa campagna d'Italia ragazzi come siamo belligeranti ciao Darkblade e Iron Age allora aspetta eh perché il problema sapete qual è estima non tiene in memoria cosa vuole Ungheria contro sultanato di Rum il sultanato dei Rum sono i Seljuk pacca boia pacca boia sultanato di Rum non adesso a tempo debito prima voglio assicurarmi l'Italia lo so Vincenzo che è il momento giusto per attaccare Milano il problema è che volevo un attimino un po' più di Pepe cioè non volevo prendermi Milano con le mura vuota cioè speravo che i milanesi mi lasciassero dentro l'armata perché volevo fare una bella battaglia era quello il problema adesso aspetta che sto avviando il mio smartphone che era sotto carica e dall'applicazione smartphone dovrei poter vedere la cronologia dei messaggi di Steam perché ho l'applicazione Steam sul telefono perché purtroppo da computer i messaggi vecchi non me li tiene in memoria ciao Eagle e io mi ricordo che Art Studio mi aveva mandato il link e mi aveva detto di scaricare il launcher quello vecchio perché con l'aggiornamento di Steam c'era un problema credo sia per quello Muro Riazan Principality Destroyed questi sono i mongoli Teodobaldo questa chi è Pubblicor si dai sposati però qui si stanno sposando Two Horseman's Ship qui si stanno sposando tutti ma il nostro Stupor Mundi non fa figli tu puoi diventare Kurt Chief poi Teodobaldo giudice Paramundi Elder Earthbet non puoi non hai nulla non hai dignità qui i nostri governatori sono a posto allora io direi che lo Stupor Mundi può andare a Torino no io non voglio che entrino i miei alleati Torino e ci prendiamo Torino Torino cosa ha dentro il castello e la Chiesetta del Piacere a Cibo stiamo messi bene io direi che qua ripariamo tutto va bene così c'ha già dentro anche il Military Camp il Garrison Camp ecco noi questo dobbiamo andare a ricercare finita questa ricerca qui andremo lì ok poi tu insediati a Verona abbiamo perso i 73 quindi direi ottimo occupiamo anche Verona oh Verona c'è cibo mio signore perché c'è l'olive orchard livestock herd e l'olive press eeeh produzione di cibo intensify squad di livello 3 di livello 3 ma che roba sicula quante olive tanto Milano Milano dov'è scusami dove cacchio sta andando vuoi dire che i siciliani hanno sterminato l'armata dei milanesi questa cosa mi piace mio signore allora tu avanzata rapida qua veloce 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 perfetto cerca gli antenati di Leo Perla anche di Uberto ma lo sapete che Uberto va a scuola con Leo Perla e si sono ritrovati nella legio queste cose alla caramba che sorpresa ragazzi incredibile alla caramba che sorpresa qui ci sono dei mercenari interessanti assolutamente no mio signore ok io mi sti la provincia al governor 2 allora io direi Beot Wolf lo mandiamo in Lombardia mentre Offa lo mandiamo in Romagna allora Lombardia construction meno 10 growth più 10 e gli do anche lo stesso editto in questa zona così cerchiamo di developpare più in fretta possibile le nostre province così abbiamo due teste di ponte Torino e Verona molto probabilmente Genova ci attaccherà adesso però lo stupor mundi è fullato non ha perso praticamente nulla Blitzkrieg mio signore si sa per caso quando aggiorneranno le fazioni romano orientali no no purtroppo non lo so e tra l'altro siamo siamo anche con gli occhi puntati sulla 1212 che è l'altra mode medievale che attualmente non ha la campagna sviluppata ma è in corso di sviluppo quindi io vi terrò aggiornato su tutto ma non vengo contro i mongoli ancora puoi la pace Genova ma anche no ah scappano 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 sono fuggiti perché non migliori la cavalleria migliorare la cavalleria perché sto finendo la ricerca civile madonna quanti sono madonna quanti sono vacca lustra no Ima joyous occasion the family member have been blessed with a daughter daughter decree no political no vabbè cioè cioè questi continuano a fare figli è nato è nato anche un bambino ma non dal nostro re cioè sono tutti nipoti mio signore i genovesi sono scappati raga ah ma questi hanno anche Marsiglia questi hanno anche Marsiglia allora tu vai ad attaccare Milano c'è dentro anche il Duca c'è dentro anche il Duca allora tu Genova devo tenerla quindi non mi posso muovere da lì potrei scendere a Bologna però guarda qua questa è proprio un'armata d'assedio andiamo a Genova easy busy lemon squeezy genovesi ci lasciano la loro capitale così e occupiamo pacificamente anche Genova vediamo che cosa hanno dentro a Genova il military jettis oh questo ci serve alla grandissima il military jettis ci serve proprio e direi che potremmo anche utilizzare penda per costruire la nostra ah già è vero devo riparare prima il porto devo riparare prima il porto si 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 posso migliorare si la cavalleria infatti allora di un'armata l'ho fatto francoforte qua perché ha francoforte c'è c'è scarsità di sanitation ho bisogno di costruire un qualcosa per la sanitation qua francoforte a tutti i costi io ho un'altra armata qua in zona allora praga cosa può migliorare oh yes goat barns town sanitation eh ci servirebbe quello per la sanitation qua bel granaio che ci dà anche cibo cibo e sanitation ok qui non posso migliorarli perché available for no non ho abbastanza equipment ok però il cibo è stabile adesso ciao samuele dì ti volevo fare una domanda ora io nella mod ho solo giocabili francia teutonic order e bohemia questo vuol dire che servono dei dlc per altre fazioni come l'hre sì sì io sto aspettando che mi risponda art studio perché gli ho mandato un messaggio chiedendogli quali dlc cioè che dlc sbloccano determinate fazioni ciao lalabel ehi lalabel raumar governatore cibo ovviamente e mi dai anche tax rate pagate le tasse monaco monaco sanitation 4 che cosa non abbiamo in questa provi oh ma qui possiamo sbizzarrirci qui possiamo sbizzarrirci central square il craftsman e anche il craftsman però smith's guild sì facciamo il craftsman così miglioriamo anche le nostre armi e le nostre armature e andiamo avanti i genovesi sono fuggiti a gambe levate comunque ragazzi eh cioè cosa fa la svizzera a roma la svizzera piena di svizzeri questo è il problema non ci vengo in guerra con i mongoli arrangiati allora slod ad est la situazione è buona nel senso che polonia e e l'ungheria stanno letteralmente piallando i i pagani della lituania quindi il nostro confine ad est è abbastanza libero in ogni caso la ho un'armata piena quella del nostro erede nel caso qualcuno entra almeno non siamo completamente scoperti tanto alla fine una città dobbiamo difendere da quel lato quello che mi preoccupa invece è il sultanato di rum i i turchi sostanzialmente che hanno completamente completato completamente completato diciamo che hanno completato la reconquista la reconquista la conquista di tutta l'anatolia lituania oh la lituania è stata eliminata la wehrmacht soffre di attrition the fist vai che c'è il banchetto raga c'è il banchetto allora invitiamo invitiamo i nostri alleati al banchetto i vicini sono cavoli loro no la svizzera che sta attaccando bologna allora milano è caduta e la occupiamo ok cosa c'è a milano mio signore oltre al duomo a milano è una fortezza innanzitutto poi c'è una chiesa militari gettis la chiesa c'è già quindi buttiamo giù la chiesa qui andiamo a prenderci le migliorie per la feudal milizia che richiedono due turni e venti turni per la feudal milizia madonna engineer siege machine vai a farti il military wharf vai a farti il military wharf allora genova andiamo avanti il nostro agente che voglio capire di lì che cos'hanno madonna ma anche marsiglia è vuota anche marsiglia è vuota ci arriviamo in un turno retrain possiamo migliorare i milizi ambush che sono diventati ambush early che fighi con la corazza scaglie allora però se io vado di là poi dopo questi ritornano ad attaccarmi a genova allora iniziamo a fare una cosa genova master planner perché non mi fa fare la flitta perché non mi fa fare la flitta genova scusami summary flitz 0 su 4 perché non mi fa fare la flitta cioè l'army me la fa fare ma la flitta no perché e sia un bug cacchio senza flotta è un casino senza flotta è un casino militari jettis oh cacchio oh cacchio allora fai una cosa vai a marsiglia tu se tornano a genova tanto perdiamo poco e niente quindi c'è il bug delle flotte ok iron age grazie le flotte non si possono fare quindi noi ci dovremmo spostare con i trasportini come cazzo facciamo a fare una crociata con i trasportini forse l'hre vuoi dire non può fare la flotta no ma attacca qua ci hanno 4 gatti e marsiglia viene giù ok marsiglia viene giù bologna potremmo fare così tu da qui non ci passi allora prenditi unit experience e il warrior ok ok bologna è sempre sotto assedio bologna non posso fare niente provincial governor c'è cinewolf ok e anche qua mi vai così grapes press qui fanno il vino mio signore e ripara no Narbona non è araba Polonia mi chiede la military alliance la Polonia Holy Roman Empire ma no è francese Narbona comunque Narbona è francese non è araba allora sai che potremmo sì allearci 2000 me li dai sì ok abbiamo un nuovo alleato a destra direi che adesso siamo completamente coperti ciao nessuno tutti è la Narbonensis è la Narbonensis vuoi fare un trade agreement con me oh ma quanti soldi mi dai 3000 fiorini corone abbiamo tutto mio signore siamo ricchi sfondati guarda qua gli arabi guarda qua l'almorad tra l'altro siamo in guerra con gli almoravidi io però devo andare a salvare Gerusalemme c'è Gerusalemme ci sono chi sono questi qua i norvegesi a Gerusalemme incredibile norvegesi a Gerusalemme io mi devo vendicare con quei laidi con quei laidi mi devo vendicare la Sicilia che ci dà l'alleanza difensiva io però però sai cosa a Sicilia volevo papetizzarla perché alla fine è mia di diritto cioè io sono anche re di Sicilia no non la voglio l'alleanza da te ciao Vincenzo è il Vincenzo Aceto Faction Destroyed Ducato di Lombardia quindi questo vuol dire una cosa che la Svizzera conquista questa cosa mi urta terribilmente mio signore questa cosa mi urta veramente tantissimo poi tra l'altro ha pure il ferro beh allora ragioniamo un attimo Berna ha le mura no io non posso permettere che Bologna resti in mano Svizzera cioè non è umanamente possibile allora facciamo così Swiss Confederation io gli levo tutti i trattati alla Svizzera e devo attaccarla poi un'altra cosa noi dobbiamo andare ad Agiaccio dobbiamo andare ad Agiaccio per andare ad Agiaccio devo tornare a Genova no posso scendere in mare qua ok due turni per arrivare lì ci mettiamo ok tu spostati pure a Genova ok tu resti qui in realtà potevo già farlo questo turno allora facciamo una cosa vroclava 14 allora tu inizia a tornare qua tanto vroclava è in una botte di ferro ok Dick per missione terra santa direi di iniziare dall'Egitto siamo nel 1228 dobbiamo dobbiamo partire per la crociata dobbiamo partire per la crociata possiamo anche upgradare i nostri sovrani qua allora io direi ci facciamo Agiaccio e poi dopo andiamo in terra santa ci facciamo Agiaccio e poi andiamo in terra santa Milano c'ha sempre questa però scusami Milano ci starebbe la cattedrale a Milano devo fare il duomo io ah scusami Shrine monastico spisso la cattedrale di Milano ci vuole scusami eh che palle devo farla church ma che ma che palle ma che palle 3005 qui che cosa abbiamo Garrison Camp allora intelligente rally chance of have children satisfy defend anche webburg fammi penda allora resistance legacy ci mando il tesoriere guarda ci mando il tesoriere 2 3 4 5 ok iniziamo a reclutare perché per la terra santa voglio andare giù in maniera massiva poi monaco oh monaco workshop of craftsman siege machine industria query ceramic workshop scusami voglio capire weapon smith lo smith devo fare lo smith smith vai di smith perché non posso non posso cambiargli la guardia a parte che adesso è in mare quindi allora agiaccio e poi andiamo in terra santa per le truppe di livello 2 è un po' è un po' tra l'altro posso anche evitare la ricerca delle truppe navali visto che tanto con l'hre non posso fare navi guardo lo svizzero di merda è il re di svizzera il re di svizzera già questo fa ridere di per sé e adesso adesso mi incazzo però questi li ho tolto tutti i permessi e sconfinano nei miei territori come osano sì hai ragione hai ragione l'ordine pubblico è importante vabbè intanto gli svedesi si sono fatti brutalizzare a gerusalemme si sono fatti brutalizzare a gerusalemme noi dobbiamo andare in crociata ragazzi dobbiamo andare in crociata allora sai cosa ti dico sicilia che a sto punto me la prendo la defensive alliance questi stanno andando allora i siciliani stanno l'udeca un figlio si ho fatto il figlio ai 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 se faccio un figlio ai 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 lo chiamo l'udeca grande giove grande giove cazzo non ho punti movimento per attaccare non ho punti movimento per attaccare allora genova la cibo si è messi bene qui sta facendo lì il pristi servirebbe un well marbled marbled stone cutter workshop of craftsmen no fai il well ah qui ci sono degli svizzeri io direi qui cosa abbiamo dentro ok e qua mi tiri su gli ambush io andrei io li attaccherei io li attaccherei alla grande questi qua allora il re io li attaccherei mi tiri su mi tiri su mi tiri su e fai un bel encircle poi tu fai a prendermi questo ok non fanno take on warrior take on warrior tu mi prendi questo e questo e andiamo a combattere Genova e la Napoli del nord ciao Fabio confederazione svizzera del ciula battaglia del ponte non è tanto bella questa cosa non è tanto bella però non hanno cavallerie non hanno cavallerie non hanno cavallerie peggio per loro oserei dire e dobbiamo guadare dobbiamo guadare volevo vedere i nuovi balestrieri che ho sbloccato le chiavi del paradiso mio signore allora loro sono tutti lì loro sono tutti lì ok va bene se sono tutti lì noi teniamo questo lato sangue eagle sempre sangue ok voi invece voi venite qua ok le cavallerie stanno guadando adesso sono No, fokuss firely. Siamo pronti per la battaglia! Tutti i comandamenti! Vai, 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 vai Oh! Tira questo Ok, correre, 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 ragazzi, correre Che cacchio non capite, scusa Allora, tu stai sparando di lì Non è che siano il massimo questi tiratori I loro sono più forti dei nostri Eh, infatti, sono Tire 2 I svizzeri hanno i Tire 2 Ci vuole l'encirclement Ok, perfetto Questi li abbiamo andati in rotta Tira su questo Tira lì Tira lì Ok Ok Lo si sticcio per la carne We hunger for blood and battle Valid Valid Use di command Davance in speed Marius, move out Ok voi ballestrateli Va bene Tu prendi questi che stanno scappando Dentro qua Ok Corri di qua Ma non è vero ma cosa stai dicendo Dentro anche voi Facca questa Ok Dai voi sul generale Indietro Perfetto Non c'è più tripa per gatti qua ragazzi Ok Ok Locati Va il generale Il generale Lo stiamo legnando di bestia con le nostre catapulte Ma la leadership di destra vuol dire che l'impero sia più autarica Ok Perfetto Qua Voi qui Voi basta Tirate qua in mezzo Perfetto Capica qua dietro Sono Panchissimi questi Infatti adesso questi li ammazziamo alla grandissima Mamma mia colpi d'ascia Mamma mia colpi d'ascia Ok Questi sono andati Tagli il colpetto di grazia da dietro Battaglia dei bastardi intensified Eh sì Un bel accerchiamento Poi tirate su Esatto Tirate qua Oh Ma questo che pusha Ma il loro generale che pusha Parliamone Ma Ma guardate sto svizzero Ecco Così impari a pushare Rimbambito Non si pusha su Attila Rincoglionito Ok Dentro qua Basta tirare Voi Vai a prendere questo Dove prendere qui Ah quanti sono No vabbè vabbè Mia donna che massacro Ma che massacro Dentro qua generale Dentro qua generale Attaccava dietro generale Su Questo chi è? Chlord Ok 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 Stacca Calmi una carica anche te Generale torna indietro Prima che mi schiatti I nostri tiratori che si ritirino Qua ho seriamente paura che poi dopo Uh, attacca questo Oh là Oh là Che massacro raga Che massacro Eh, non ti sono bastate le truppe di Tyre 2 degli Uri, eh Pensare che la fanteria imperiale non è neanche poi così Cioè in realtà noi abbiamo un po' di tutto ma Cavalleria a parte Non abbiamo delle grosse eccellenze Cioè polacchi, ungheresi I stessi boemi sono molto più forti di noi Vieni qua Vieni qua Noi abbiamo l'ovo Raffaele, purtroppo è un problema che ho solo ed esclusivamente con Warhammer Cioè in live Warhammer non riesco a portarlo Non so perché Mi dà proprio problemi Warhammer Tant'è che tutto quello che abbiamo portato di Warhammer è sempre stato pre-registrato Perché in live dà problema Non riesco a capire il motivo Puoi, allora Se vuoi vedere quella live del torneo di Warhammer Ti consiglio di andare su Twitch sul canale di Total War Warhammer Italia Dovresti trovarla Io purtroppo quel torneo lì ho provato a streamarlo ma Mi dava problemi Su YouTube Ma qui li abbiamo insacrati tutti Quanti erano? Erano 3040 Volevano, volevano E invece Sono morti 4, 4, 10 41 3 Ma direi che possiamo anche finirla È stato un massacro Ne abbiamo persi 500 Ne ne abbiamo fatti fuori 2007 Hanno avanzato sicuramente qualcosa Ma Poca roba Adesso la facciamo fuori La Wehrmacht non perdona ragazzi La Wehrmacht non perdona A proposito di Wehrmacht ragazzi Nel prossimo Axis vs Allies Il Diktator giocherà La Germania Aiaiaiaiaia Sarò l'air controller della Germania Altro che Wehrmacht La Luftwaffe Ti grazie Raffa Ma no Ci si prova Questi non avevano cavallerie Cioè Quando trovi di fronte un esercito che comunque Non è ben bilanciato Non è ben bilanciato Tutto sommato bilanciato Perché il nostro Nostro è un bel esercito Avrei preferito avere Gli arcieri a cavallo Piuttosto che i balestrieri a cavallo Ma ahimè Non li abbiamo No io li uccido Non voglio perdere le skill del generale Allora tu Adè Ah cazzo non ci arriva Che laido Qui a Berna Questi cos'hanno dentro? E' un bel po' di roba Noi cos'è che abbiamo? Per il Lord Il Signore Non ce la faccio sai Devo aspettare un turno Perché mi servirebbero Un altro paio di infanterie Abbiamo tanto tiro Ma Ma Loro a Berna Hanno dentro Gli Swordsman Di livello 2 E con una fanteria sola Non ce la faccio Se ne avevo tre Si Ma con una no Allora qua Bisogna aspettare Il passaggio del turno Herbert Cos'ha? E' stupido Mio Signore Herbert E' stupido Perché voglio giocare a Germania Con Dariuccio Dariuccio Cavalluccio Io sono sempre pronto Per l'incarico Raffaele Battle Movement Speed Oh si Mili Attack Oh si Cavalleria Mamma mia Ok Allora 2 3 Milano Satisfy Defender Su un'altra armata Qua ci prepariamo Per la crociata Mio Signore Per la crociata Vai di crociata Mando giù tanta di quella roba Al saladino Che scappa Scappa Cioè Muore Istantaneamente Delitto e castigo Volevo vedere Volevo vedere un D-Day Come si deve Enemy has become A tributary Puppet state Cosa 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 Il papa Ha soggiocato La Swiss Confederacy No Declare war Al papa Ma pensa te Questi ci hanno attaccato 3 4 Devo mollare l'assedio Devo mollare l'assedio Non posso Ah Siamo in guerra Anche col papa Adesso il papa Andrà a rompere I coglioni Adesso il papa Andrà a rompere I coglioni Anche a A tutte Le sue I suoi amichetti Francia Hai visto Cosa ha fatto L'imperatore Della Germania Allora Vediamo se ha avuto Allora Qui adesso Abbiamo tantissime cose Da fare Tipo Ammazzare questo Svizzero residuo E' l'antipapa Lo sto facendo Milf Milf Mh Allora Bologna Eh Bologna Dobbiamo giocarla In manuale Lasciala sotto assedio Perché Perché voglio vedere Innanzitutto Scusami Ma il nostro Tu Vieni qua E vedi di muoverti E vedi di muoverti Pure d'inverno E' successo Tutto questo Purpuri Allora Tu Tu Floating income Naval Battle movement Moral training For all naval units Corruption Fatigue rate Meno 10 Interessante questa Charge bonus Commanded force No Poglimi la fatigue rate Chiamo a Iaccio La chiamo a Iaccio Dica a questo punto Ricrea l'impero romano Io sono l'impero romano Non ditelo al basileus Perché il basileus Si incazza Perché lui è convinto Di essere l'impero romano Ma io sono l'impero romano Tra l'altro Federico II Di Svevia Ha Preso anche Il titolo Di Augusto E' il baluardo Della cristianità Effimera Che palle Sti genovesi Però Che pre Clutano Sti cavolo Di cavalieri Questi qui Li avranno presi Nel bosforo Che palle Ah ma noi Abbiamo gli alleati Ah che culo Abbiamo gli alleati Noi Eh si E' la flotta E' quell'armata Ah io faccio morire loro Io faccio morire loro Cosa me ne frega Eh fratelli Cosa ti devono andare Di comunque qualcuna Difendere casa Lo lascerei Dai mongoli Eh si Eh si C'è da dire che devono Prima passare Allora Qui hanno una torre qua E una torre qua Ma io ho le catapulte E non me ne frega niente Allora Perfetto Perfetto Dov'è lo stupor mundi Che sfigati Loro sono in mare Cazzo C'hanno i cavalli Cazzo C'hanno i cavalli Mollate le catapulte E venite dietro Enjoy yourselves Siege engine The enemy has been spotted Melee fighters ready Battle is turning in our favor Warriors eager for flash Savior protect us Ready for battle Allora I rinforzi Che vanno dal mare Ora Voi potete tornare A prendere le catapulte From above We await your command At your service Advance of speed For victory Forward They will bleed for us Stand your shields up Battle ready and eager Servizio del Lord Ciao matalonia Ma cos'è Ma cosa vuol dire La tua meridionalità Mi ripugna Ma dai Ah perfetto Allora Quotazioni Il generale alleato In quanto si farà ammazzare Ragazzi No Tirali giù le torri Falli fuori Questi vogliono aggirarmi Questi vogliono aggirarmi Ready for battle Run Curso They will bleed for us Warriors Move out Spears Warriors Move out Missile Warriors Ciao ma ste torri Vanno giù o no 57 Ancora due colpetti Eh qui non abbiamo cavo In questa armata Questa era un'armata Fatta per assediare Una città con le mura Perfetto Allora Qual'è che è andata Sono andate giù tutte e due Le torri Sì Perfetto Allora possiamo avanzare Mio signore Spears Six Dominate Advance Spears Rise Watch Is over us Bon perfetto Le cavallerie sono impegnate Chi vuoi ingaggiare questo Ora cambiate Cambiate obiettivo Blood and battle Fire Bombos Get running All ranks All sheers Battle Ready Spears Commander Add the double Servants of the army They will plead for us Get running Fire Fire No No Shut Eh là Quei cavolo Di cavalli Li Ready for battle Dare attento Le catapulte Ok Dire di lì Quelli qua che arrivano Tocca Non osate venire a prendermi Le catapulte Sai E che tanto muori Schifoso Ecco Vieni lì Allora voi Mollate le catapulte Venite qua A cazzo Di qua Vieni pure qui Stupor mundi Pronto ad entrare in città Perfetto Poi iniziate a raggrupparvi qui Perfetto I genovesi moriranno male Mio signore Laido Il laido Ma quanti morti Tu dove pensi di andare Scusa Ok Beh ma è finita Sì sono entrati i nostri Alleati Direi anche ottima Vittoria Questa Come scappa Come scappa Quella sword milizia Schifosi Scusami Ma 123 Ma dove sono gli altri Ma dove diavolo sono gli altri Ok Voi avete fatto il vostro lavoro Potete tornare qua Stupor mundi Vai a cappare va Spontori Spontori Ready for battle Keep watch By your command Extemplu Spearmine Fallen Battle ready and eager Arrarch Keep watch We wait your command Dove è il nostro Federico Fredrik Guarda qua Guarda che home è atletico In realtà non è vero In realtà era un secco di merda Eppure brutto Tant'è che Il Sultano Dell'Egitto Se non erro Adesso mi sfugge il nome Prima che iniziassero I loro vari Rapporti Per la cessione Di Gerusalemme Diventarono amici Che poi in realtà Non è che era un semplice favore Perché all'egiziano Faceva comodo Federico In quanto suo fratello Che controllava Diciamo la zona della Siria Gli si era Tra virgolette Ribellato E quindi faceva comodo Che Federico lo aiutasse A combattere il fratello Così lui ci guadagnava la Siria Ma sostanzialmente Perdeva Gerusalemme Quindi Questo perché Per dire che Disse Se Federico Fosse stato uno schiavo Non sarebbe Non sarebbe stato uno schiavo Di grande valore Per 200 dracme Forse Potevate acquistarlo Questo per farvi capire Fisicamente Quanto era Poco prestante Federico Secondo Dai Federico Vai a combattere Tanto è cappato No Vabbè ma tanto È finita È finita È finita È finita È finita Sì Fa proprio schifo Però L'unità di Federico Mi li difesa Aspetta un attimo Va no Torna indietro Per favore Mica che per qualche Assurdo motivo Muori Ok Ok Ma i genovesi Hanno il malus Per il braccino corto Può essere Può essere Allora Voi siete arrivati Quindi Venite avanti E mettetevi qua Qua ci sono ancora Delle barche Che devono Devono essere punite Ma sai che non sbarcano Mica questi Questi non sbarcano Mica Allora fate una cosa Va Fate una cosa Voi Qua Voi Venite qua Mi sa che dobbiamo Silurarli Mi sa che Dobbiamo silurarli Perché non sbarcano E mica scemi Cioè nel senso Ho perso la città Senza terra E senza dignità Tra l'allero Tra l'allà Le nostre catapulte Hanno terminato I colpi Quindi direi Portiamole Per Per Pritichiamo Vediamo giusto Gli uomini Le macchine Da sedio In sé Le recupereranno In un secondo momento Ecco Dick brucia le barche E infatti Quello che voglio fa È quello che voglio fa Il problema è che A bruciarle Ci vuole una vita Steady shaken Steady shaken Steady shaken Steady shaken Steady shaken Facciamo la musiva Concentrated fire Oh questa Mi dà il fianco Però Durate su questa Che ci dà il fianco Poi voi Girate qua Che è quella Del generale Teoria Se gli va giù Il generale Questa Allora Questa Blinca Bene Ok Scappata Tirare su questa Le dobbiamo far scappare Ah no Proprio affondata Ma che roba Cos'è accaduto qua Ce li hanno i colpi incendiari Questi Ok Perfetto C'è in ruta End battle Ah E anche Genova È stata sottomessa Anche Genova È stata sottomessa C'è sottomessa Annientata Non posso fare La flotta imperiale Perché non posso Costruire le barche Quindi dovrò Utilizzare i trasportini Sostanzialmente Dovrò utilizzare I trasportini Questo però Potrebbe Essere abbastanza Insignificante Come cosa Nel senso che Noi attualmente Non siamo in guerra Con Con il califato Quindi in teoria Dovremo poter Riuscire a spostarli Tranquillamente Senza troppi problemi Senza troppi problemi Ma Prima La crociata La facciamo Io farei Proprio domani La puntata Della crociata Perché adesso Devo sistemare Gli svizzeri Che non sono Neancora morti Del tutto Aiaccio Aiaccio Però fa parte Delle isole Ehm Occupiamo Occupiamo Aiaccio Che il problema Di aiaccio Che c'è dentro Palma di Mallorca E Cagliari Allora Cagliari È in mano Dei pisani È in mani pisane Tu che cosa Ti sei guadagnato Un cazzo Ti sei mal guadagnato Verso Assistance Empires Interessante Anche questo Gli Eastern Empires Dobbiamo andare Incrociata Poi Allora Io direi Ci facciamo L'assedio Di Bologna Ci facciamo L'assedio Di Bologna Ah qui c'è ancora La questione Se vieni di qua Ci sono mercenari Qui Neanche Però qui posso Reclutare Allora Cosa abbiamo preso Qua Standardize Equipment Qui ci vogliono 20 turni Allora Lambush Shoots Engineer Siege Machine Pottery Workshop Coaching Coaching Andiamo a ciulare Facciamo il coaching Un po' di blasfemia Così il papa si triggera Papa con il quale Adesso siamo in guerra Vorrei sottolineare Questa cosa Tu stai reclutando Sì 2-2 2-2 2-2 2-2 3-4-5 Ne leviamo 2 Mi porto 2 marshal Ok 6 turni Per questa armata 1-7 Però calcolando Che c'è Bologna Attacchiamo Bologna Sì Li avevo soggiogati Ma siccome mi hanno conquistato Bologna Che era una città milanese Che io volevo prendere Mi hanno fatto triggerare E gli ho dichiarato guerra Nel mentre che gli ho dichiarato guerra Cos'è successo? Che il papa Ha dichiarato guerra Alla svizzera E l'ha soggiogata È diventato un suo puppet Al che io ho deciso Di rompere l'alleanza Con il papa E di attaccare anche il papa Per prendermi la Svizzera Dick ma hanno tolto La Repubblica di No No c'era C'era la Repubblica di Novgorod Perché l'ho vista Come orda In giro prima Nel mare Cioè c'è no Novgorod è fortissima Hai ragione Redsting Dovevamo eliminarli Subito gli svizzeri Hai perfettamente ragione Io non mi perdonerò mai Questo grosso errore I darsi è bene I darsi di Mattia Suisse È meglio Grossa Bologna ragazzi Bologna è molto grossa Poi mi devono spiegare Bologna sul mare Però Bologna sul mare È un must È la Bologna È la mortadella Sì Oh cazzo Qua è pieno di paludi Ma perché Ravenna Queste qua Sono come si chiama I lidi di Comacchio Ma che schifo Tra l'altro Questa è già grossa Quindi ha le mura in pietra Che palle Nel lidi di Comacchio Dobbiamo combattere C'è una zona interessante Da cui entrare Allora io devo vedere Il range Delle loro tour Questa è una torre? No Questa sì però Allora Il problema è che qua Mi possono mettere Una catapulta Da dove li attacchiamo? Questi da tutti i lati Possono avere catapulte Tranne che qua Potremmo entrare da qua Però sono sempre Due e tre Ma una vale l'altra E non lo so Samuele Hai perfettamente ragione Onaga Onaga Ok Iniziamo a tirare giù un muro Lunga Porca troia Quello lì che si è visto Il colpo passare in aria Madonna Quanto ci mette a caricarla Al colpo Ce la fai? E' ancora Meno di un quarto Ed è che l'ha caricato? Ca' troia Dai carica Sto colpo su Allora Allora intanto che carica Io vado in bagno Intanto ci mette una vita Allora intanto che Allora intanto che ci mette un'altra Non si sentirebbe 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 Allora intanto che c'è la vizia Ma non si sentirebbe Ma è qui? È qui Il problema Sto pezzo qui va giù 98-100 è saltato tira questa torre però un tiro balistico sulla porta vorrei provare a farlo non va sulla porta eh il problema è che le torri non ce la facciamo mica tirargliele giù quanto danno prendono? 8-12 ma forse si e sai forse si eh 44 queste qui dell'ingresso non sono poi così resistenti questa qua è un po' più resistente voglio i cannoni voglio i cannoni sugli spalti tanto che questi bombardano andiamo a vederci un attimino anche questa città con queste ingegnerie impossibile su D-Max ragazzi va che roba c'è la di paglia incelitatela cosa manca qua? 84 44 44 44 questa cosa se ce la facciamo? ma questi vogliono uscire per farsi frecciare 60 oddio che bug grafico cos'è? cos'è? cos'è quella roba lì? tu tira su questo va è caduto giù un pezzo enorme 76 dai che va giù dai che va giù dai che va giù forse riusciamo a tirarle giù tutte le torri 4 8 eh 70 non lo so mi sa che non ce la facciamo sai mi sa che non ce la facciamo quindi qui dovremmo prepararci nella breccia per la gloria per la vittoria questo è venuto giù vai di lì e sono due quindi in realtà tu mettiti qua va e qua non hai questa non dovrebbe arrivarci ok abbiamo finito i colpi delle catapulte no c'è ancora questa che ne è qualcuna negli acquitrini con l'acqua fino all'ombelico cioè sai che questa città qua in realtà da assediare cioè se tu sei in difesa e hai un buon numero di unità da tiro col fatto che le marsh comunque ti rallentano la velocità è inespugnabile cioè conviene attaccarla dal mare veramente e scappano quelle merde la città è qua e muoiono bene questi ma come muoiono bene non ce la fate ad avvicinarvi porca trova cosa vi sta arrivando in testa ok morti ora andate ad attaccare quelli ok questi sono arrivati e andate nel gatehouse voi vi devo tenere più indietro perché puttana very light melee questi due salve non ci sono più ok perfetto voi iniziate a tirare qua ah che merda va che merda allora le balestre è inutile che tirano su oh 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 guardate sotto le mura che per loro è più difficile questi sono uri e questi qui holdano un po' di più io ti balestro anche la nonna allora cosa abbiamo lasciato indietro le cav allora voi per esempio potete già iniziare ad andare qua e anche voi facendo questo giro perfetto tu metti il tiro pesante questi sono corazzotti eh mi danno anche lo scudo davanti si fa fatica questi si fa fatica questi a tirarli giù col tiro più che altro perché sono il muro di scudi ah questo è sfigato però se ne è preso uno in faccia anche questo allora fai una bella cosa tu no tu sfigliati il tiro infuocato così li terrorizzi un po' ok basta tirare guardate voi adesso fate a scalare sta cavolo di montagna o no tanto questi ormai non dovrebbero avere più molto di bonus armatura quindi in teoria li buttiamo giù se no se non ce la fai io ti do un qualcosa che ha un piercing più elevato voi iniziate a venire qua tu vuoi dargli una mano sto rincoglionito va voi nel mentre tirare qua oppure oppure no sai cosa puoi fare tirate alla barricata tirate alla barricata tirate alla barricata lo sanno soltanto loro è lo stupor mundi mio signore è lo stupor mundi quanto ci vuole troppo tempo troppe frecce no niente torna qua torna lì ok ma non è anche questi in teoria questi mini damage 32 oh cazzo torna indietro torna indietro anche te tirate qua torna indietro mele warriors mele fighters ready get out leave to fight another time warriors eager for blood cazzo questi uri sono veramente forti comunque scusa no al tabato mio signore ho sbagliato l'occhio di vetro dello stupor mundi anche la modalità la cx tu hai finito i colpi questa è una bruttissima notizia dai 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 eh ci vuole un botto a tirarli giù questi qui ti cavolo di svizzeri di cioccolato mettiamo un per due va mettiamo un per due anche se col per due non mi fa sentire la gente che grida ci vuole una salva mediamente per uscirgliene uno cioè quando sono in formazione così è difficile quando sono in formazione così è veramente difficile allora tu anzi facciamo una cosa mettiamo una balestra il tiro pesante teoria col tiro pesante dovrebbero andare giù in fretta hanno meno raggio però l'efficacia di una salva dovrebbe essere migliore infatti va come van giù va come van giù è una salva pesante gliene tira giù un bel po' allora fate così vai sarete più lenti 84 81 79 perfetto su le munizioni vai via una volta tirati giù gli uri le altre unità le facciamo fuori abbastanza facilmente intanto nuovo let's play di total war su three kingdoms cosa ne pensate se avete visto qualcosa ma a me incuriosisce molto a me massimiliano incuriosisce molto voglio provarlo nonostante ti dirò non è che mi emozioni tantissimo il fatto di giocare con dei cinesini però motore grafico di warhammer il gioco è fatto bene almeno da quello che ho visto non ho potuto provarlo mi incuriosisce e voi invece chi è che di voi pensa di prendere three kingdoms dai schiatta bastardo ora di bonus armatura non ne hanno più questi in teoria anche quei colpi normali dovrei fare di string 33 tira questi che sono là in fondo e di spalle che sono girati di spalle vai che muoiono bene ecco li vedete questi paletti sapete cosa ci faccio con quei paletti ve li infilo nel culo ok questi sono morti aspetto tira quello dietro anzi basta tirare voi dentro samuele non lo prenderà ma non lo prenderà mai massimiliano l'ha già preso sono terrorizzato da alcune cose non mi convincono temo un rom 2 all'uscita però lo prenderò eh speriamo speriamo in bene ciao federico i goletta non è intelligente lo prenderà dopo qualche mese ci sta ci sta ci sta 25 dai però è un mace man questo si vede però che sono dei tire 2 cioè hanno la loro abilità in battaglia guarda questo guarda questo guarda questo colascia guarda questo colascia ci muori muori pezzo di merda muori dai fammi un'altra combo colascia ti prego questo è fortissimo però guardalo deve morire questo sembrano quelle divise di dorm avete presente game of thrones gialli quelli di dorm guardalo 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 il furia berserker dai dai fateli fuori però cribbio scudo in faccia certo che fare il portabandiera deve essere veramente una cosa terribile in battaglia cioè un po' come quelli che suono gli scozzesi che suono le cose non use l'aquilifer per il romano attila non è piaciuto alla community principalmente perché ha un motore grafico molto molto pesante che all'uscita richiedeva veramente dei computer della nasa per essere giocato e soprattutto perché è un gioco che si apprezza col tempo io attila all'inizio lo odiavo non mi piaceva minimamente dopo 400 500 ore quando inizi a capire le catene di costruzione le meccaniche di combattimento diventa un gioco affascinante e tra poco inizia anche Game of Thrones ragazzi chi è che di voi segue Game of Thrones chi di voi segue Game of Thrones cioè ma ce la fanno questi quattro beduini ad ammazzare questi qua swordsman sono in due sono due svizzeri del cacchio ma ti rimando a Schaffuse in una barra di legno vai a bellinzona con i bilux è incredibile è incredibile senti guarda ma hai rotti i coglioni adesso ti mando dentro le asce ah no è morto ok questi quanti sono è uno è Mattia Swiss questo qua che difende la sua terra del cacchio Dark Blade grande ah no non è morto aspetta un attimo che qua ci vuole i metti tutti d'accordo anche il Francis la segue Federico Manglaviti con due o addirittura lui è quello che la segue più di tutti Game of Thrones è una delle poche io non sono un grande amante della telemedia la guardo veramente bellissimo non sono neanche uno accanito di serie tv Game of Thrones è l'unica serie tv che mi ha veramente stregato cioè mi sento una massaia quando guardano lo so le telenovelas brasiliane è uguale case bug io ma spero in un finale di serie non deludente beh sì hai ragione qualcosa di poco scontato non lo so poi a me c'è Cersei Lannister che mi fa un sesso violento clamoroso ma oh non muore ma vabbè senti una cosa mi sono rotti i coglioni voi iniziate ad entrare va iniziate ad entrare ah è morto ok andate sulle torri tu qua a distruggere sta cavolo di 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 barricata che è proprio noiosa perché ti costringe a seguire tutto il percorso c'è a dire che lì ha mi sembra comunque un po' più sveglia rispetto al solito sicuramente non brillante però un po' più sveglia lo è allora voi no i cavalli aspetto a portarli dentro voi iniziate ad entrare lui vieni di qua no però aspetta perché lì c'è a range l'altra torre ma chi è che mi spara va che figli di cagna figli di cagna ma che palle sono ancora swordsman di uri ah guarda dove ha range la torre qua aspetta mettetevi qua ma parati già così è venuto giù la torre col che cazzo di texture di merda perfetto perdono bye die no No! 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 Back, men! Back! I'm gonna have broken and I'm fleeing! It's running! Serena! Spears! We'll kill them all! Oh yes! Move out! It's running! We'll kill them all! Wake up my word! Stay alert! Warriors eager for blood! Battle is ready! Back, live to fight another day! Eh, sti cazzo di arcieri qua sono pericolosissimi! Voi salite di qua? Warriors eager for blood! Cazzo ma qui Yuri m'ha preso! Ah, pigliagli questi! Voi pigliate qua! E voi li efreggiate! Voi li efreggiate! Ho bisogno di sfruttarvi la carica! Qua, tirare! Poi! Cavallerie! Dentro! Tuttavia! Oh, ricarica! Uh, ricarica! Tuttavia! Toh, i puesi! Nelle portee ha fallingvi all'inniere! Qui dove cazzo è la... Kill, kill, kill Pizzeri di merda Ah, c'hai la barricata lì, eh Ah, sei morto, pezzo di merda Ah, c'hai la barricata lì, eh Dai, indietreggia Tu ce la fai? Vedi di muoverti, eh Vedi di muoverti Formazione a cuneo Va bene anche il generale Salire Eh, le città con le mura sono una spina da... A combattere, eh Che poi caricano nella schiena i nostri Qui cosa hanno? Wigstan Kivur Kings Allora, qui riusciamo a fare una roba del genere, però Eh no, qua... Ah sì, guarda qua che c'è l'ingresso C'è qualche barricata, no? Allora Tu Spacca qua Poi No, aspetta Raggruppatevi prima di... Di attaccare Imperial Reiter Formazione a cuneo E attaccato Attaccarlo da dietro o perché? 92 di morale I cavalieri di Kiburg 92 di morale Ma che cazzo? Adicca Che 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 2 5 4 4 6 5 6 7 8 8 8 5 8 ah adesso iniziamo finita è finita si potrà riscrivere la storia del potere di Roma esce anche imperator Rome tra poco anche se devo dire la dinamicità di un Total War mi piace sicuramente di più rispetto ai Paradox che sono solo esclusivamente gestionati cioè mi diverte molto di più combattere manualmente una battaglia come questa piuttosto che cliccare più e meno su determinati modificatori numerici per il mio gusto personale poi prenderò sicuramente imperator Rome anzi mi auguro che come tutti gli altri titoli Paradox la Paradox me lo mandi gentilmente così magari lo posso portare anche in anteprima and battle ce l'abbiamo fatta e Bologna cade nelle nostre mani ciao Wolf 97 Mattia non ha mai avuto il suo personale morale a 92 neanche mangiando tonnellate di cioccolato non sono malaccio le balestrine quelle lì upgradeate Samuele lui te lo boccia io te lo consiglio io chi? io lo boccio? non è che lo boccia non lo boccio dico semplicemente che a me personalmente piace di più un gioco più dinamico che integra una parte di combattimento soprattutto anche in chiave multiplayer cioè se utilizzano la stessa meccanica delle delle battaglie miste le tutti contro tutti le play for all di Warhammer anche il nuovo 3 Kingoms verrà molto cioè sarà anche molto divertente da quel punto di vista lì si potranno organizzare anche tornei tra amici e robe del genere Imperator Rome come tutti i Paradox non ha questo genere di meccaniche sì c'è la partita multiplayer che dura tipo 500 ore e oh non mi diverte molto di più la parte micro di un gioco che la parte macro ah The Warhammer cosa ha detto di Warhammer? è il Big Dead di meraviglia allora visto che comunque è appena arrivato The Wolf mi sarebbe brutto visto che è arrivato adesso di lì guarda chiudiamo qui giochiamo ancora 5 minuti dai 5 minuti poi il Dick va a fare merenda bersi il caffè oddio guarda i francesi cos'hanno qua i francesi sono pieni mio signore Bologna Trade Wharf poi una Church che ci può stare perché non ce l'abbiamo e una Fortress ok guarda quante skill allora Beowulf Governatore Personal Influence no non te la voglio dare mi piglio il cibo poi Offa Governatore Unit Experience per le reclute mi sta bene e poi mi prendo questo Provincia il Governo or dove? Insule Occidentali ha la Corsica non voglio dargli l'influenza per turno ok Insule Occidentali anche qua Construction e Growth Cos'hanno qui Small Town Trade Jetties Rhein e via e Samuele per il suo complanno voleva comprarlo tu cosa ne pensavi? allora io penso che se a Samuele piace la lore di Warhammer te lo consiglio vivamente cioè se ti piace il gioco da tavolo di Warhammer o comunque conosci la lore te lo consiglio assolutamente è un gioco veramente ben fatto è bello bello graficamente per uno che conosce Warhammer ci sono le unità sono fatte bene le meccaniche Total War comunque sono state riadattate per permettere anche l'utilizzo di magie e tutto oh cowardly one until our next meeting ah ah se il dictator non va alla crociata la crociata va al dictator quindi il sultanato di Rum ci ha dichiarato guerra il sultanato di Rum ci ha dichiarato guerra tirando dentro anche gli aiubidi vediamo eh sì la Sicilia non è entrata in guerra però attenzione attenzione prima guerra prima guerra religiosa perché ci hanno dichiarato con noi entrano le nostre i nostri stati cliente che sono rispettivamente il Brabante Ducato delle Fiandre Venezia e la Sassonia più i nostri alleati che sono la Svezia è entrata sì che sono Svezia Danimarca Ungheria e Polonia it's time to purpuri it's time to purpuri tic dove ti scrivo per quella cosa del lancer o su Facebook o su Steam o su Discord o su Facebook o su Steam o su Discord ma adesso te la dico subito guarda perché ho avviato il telefono tipo 40 anni fa poi mi sono pure dimenticato adesso vado a vedere se becco la conversazione con Art Studio allora Steam si ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho te lo mando qua messaggio copiato negli appunti adesso da telefono vado sulla live te lo pubblico qua allora 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 cosa aspetta ho fatto un casino ho fatto un casino incredibile perché mi ha copiato allora steam aspetta un attimo come faccio io allora datemi soltanto un attimo e non sono rincoglionito devo semplicemente tirar fuori il pennino del telefono e lazzare la parte con come cazzo madonna allora visualizza collegamento non riesco a mandartelo allora sì ho l'ultimo note allora te lo devo scrivere manualmente ma come faccio a scrivertelo manualmente è una cosa inguardabile messaggio copiato nel testo degli appunti allora quindi perché mi copia interamente il messaggio è lunghissimo allora dovrebbe essere questo ok no il Dick si ingegna è che mi hanno fatto ma non me ne frega un cazzo delle 5 calciatrici con l'ingaggio più alto del mondo ma che cacchio di notifiche mi mandano allora adesso mi sono rotto veramente i coglioni come faccio a mandarlo aspetta un attimo adesso faccio così è un casino senti riesci a come si dice raggiungermi su discord ce l'ha il nostro discord chi è il ragazzo che mi ha chiesto il ragazzo che mi ha chiesto il link dov'è il ragazzo che mi ha chiesto il link dove sta mi sentite ragazzi sì grazie francesco grazie francesco va bene va bene va bene scrivimi su facebook così ti mando proprio lo stamp del messaggio di art studio dove c'è il link comunque allora per quanto riguarda facebook mandami il messaggio sulla pagina di clan legitalica clan legitalica messaggio privato mi dici che sei tu così ti mando lo faccio subito perfetto allora io vi ringrazio ragazzi per oggi ci fermiamo qua io faccio un bel salvataggio e domani o dopo domani vediamo un attimino come come siamo messi vedremo di chiudere il discorso papale che ci sta altamente sulle palle e di intraprendere questa immensa crociata a questo punto perché sono entrati anche i seljuk attenzione perché costantinopoli intanto è nelle mani della serbia così facciamo la crociata multipla sia contro gli aiubidi che contro i turchi del sultanato di rum c'è anche la zenjig dynasty qua io vi ringrazio ragazzi francesco instagram non lo guardi il nostro instagram della legge lo cura allo silgreco adesso vado su facebook così rispondo rispondo a francesco noi ci diamo appuntamento intorno alle 19.30 per capire innanzitutto se continuare la partita con su tropico 6 oppure iniziarne una nuova magari in sandbox o tutti insieme comunque 19.30 la certezza è una sola è il presidente ritorna dal vostro dittatore Lorenz è tutto mi raccomando lasciateci un bel like per sostenere il canale e noi ci vediamo più tardi ciao ciao